Siamo a questo momento di assemblea, se magari... ...che socialmente le cose vanno avanti. Allora... ...dove possiamo trovare una soluzione a quello che vogliamo. Non solo se non è... ...con l'emico di... ...che non è... ...che non è la soluzione... ...che non è la soluzione... ...che effettivamente una raffineria in mare, non prima. Ci sono le realtà, appunto, come dicevo di Ravenna, come dicevo anche delle Marche... ...che portano la realtà di averla un po' più... ...verla, verla, il vento è a portaria. Ma sempre non le porti, lo voglio portare fino a Lecce a Brindisi per dirvi a quello che... ...come il Ministro dovrebbe ascoltare tutti. Vabbè... ...quindi la campagna... ...è una stuporata, oltre che una provocazione, ...quindi quando si parla di emergenza climatica, quando si parla di tempo che sta per scadere... ...la risposta del governo italiano è quella delle trivelle, è quella dei centri di stoccaggio del metodo. ...che poi c'entra che si fila di tre famose di questi questi multinazionali... ... multinazionali che scalano dei territori e se ne pregano della Chiesa... ... Ye se! ...ste abbiamo irroviatu a portar direttamente per tutti gli office... ...un senso di questa possibilitazione... ...